Sono giorni di grande caos, almeno dal punto di vista della narrazione mediatica in casa Milan, tiene banco ovviamente la scelta dell'allenatore e in questa scelta tutti notiamo un po' di confusione, sono stati fatti tanti nomi, la scelta non è ancora stata fatta da parte della società rossonera, francamente i tifosi sono molto disorientati, intanto sono disorientati dal punto di vista del profilo che viene accostato alla panchina del Milan, perché sembra dover essere a tutti i costi un profilo straniero, un profilo non italiano, un profilo che non conosce il calcio italiano, i nomi di Fonseca che è vero che ha allenato due stagioni la Roma con Seisao, Marco Rose, Van Bommel, sono tutti nomi che non convincono, sono tutti nomi che fanno pensare ai tifosi del Milan a un salto nel buio, alla volontà di non essere ambiziosi, di non voler vincere già dalla prossima stagione dopo un anno molto deludente come quello che si sta concludendo. La società deve dare una risposta forte, chiara, netta, è vero che la stagione non è ancora terminata, quindi il silenzio che in questo momento circonda il futuro di Stefano Pioli può essere anche comprensibile, ma gli spifferi che arrivano vanno nella direzione di un allenatore con caratteristiche di un certo tipo, se mi permettete con caratteristiche che potrebbero far pensare al Milan come una sorta di Atalanta d'Elite, cioè una squadra, una società che ha voglia di valorizzare i giovani ma non ha l'ambizione di vincere subito e questo i tifosi del Milan non lo possono accettare, questo la proprietà Cardinale e Elliot lo devono sapere perché non si può prendere il Milan, guadagnarci tanto come ha fatto Elliot, voler costruire lo stadio per guadagnarci ancora di più e poi non essere ambiziosi dal punto di vista delle vittorie, non si può continuare a dire che si vuole vincere e poi nei fatti dimostrare l'esatto contrario. Esattamente un anno fa, poco meno di un anno fa, al termine della scorsa stagione, veniva allontanato in malumodo Paolo Maldini e nel primo anno di decisione di Gerry Cardinale, nel primo anno operativo dall'inizio alla fine di Gerry Cardinale, l'immagine che resta del Milan è quella di una squadra che ha perso l'ennesimo derby, che ha perso il derby e ha consegnato lo scudetto all'Inter a San Siro, giocando in casa, una squadra che ha visto i tifosi uscire prima dallo stadio, una società contestata platealmente dai tifosi come non accadeva da diversi anni, perché negli anni precedenti c'era Paolo Maldini che dava un senso di voler vincere, che dava un senso di ambizione a tutto l'ambiente, è stato mandato via, a stagione in corso hanno capito che qualcosa non funzionava, sono corsi ai ripari chiamando Zlatan Ibrahimovic, ma obiettivamente il ruolo di Ibra, la presenza di Ibra fino a questo momento è stata impalpabile, sia nelle dichiarazioni che nella sostanza e se adesso il nuovo allenatore verrà scelto da Furlani, da Moncada e da Ibrahimovic in modo collegiale o come dicono i milanologhi che prendono spunto dalla società in team, la cosa è preoccupante, nel senso che allora Ibrahimovic perché è tornato al Milan? Come ha detto lui è stata fatta un'offerta irrinunciabile da parte di Gerry Cardinale, quindi solo per un motivo economico, solo per avere ancora le luci della ribalta dopo essersi ritirato da calciatore? Oppure per decidere, oppure per imporre il suo credo, oppure per imporre la sua ambizione di vincere, cosa che lo ha sempre contraddistinto nel corso della sua carriera? Ecco qui peseremo Zlatan Ibrahimovic, ma i tifosi non possono più attendere, se pensiamo di aspettare la fine della stagione perché su questa squadra obiettivamente Ibrahimovic è intervenuto poco, non è stata scelta creata da lui? Può essere una risposta anche convincente, ma poi al termine di questa stagione ha raggiunto matematicamente il secondo posto, bisognerà fare chiarezza, Ibra dovrebbe prendere parola e spiegare i progetti futuri di questo Milan perché francamente il fatto che il nuovo allenatore possa essere scelto da Giorgio Furlani che non ha mai fatto questo lavoro e non ha nessun tipo di esperienza nel mondo del calcio è urticante per i tifosi del Milan. I tifosi del Milan non lo accettano e vedono nella scelta eventuale di Fonseca, e faccio un nome che in questi giorni sembra essere davvero caldo per la panchina rossonera, la vedono come la volontà di non essere ambiziosi, la volontà di non tornare alla vittoria. Allora Ibra se ci sei devi battere un colpo, Ibrahimovic deve far capire perché è tornato al Milan, deve essere lui a metterci la faccia e a decidere per il nuovo allenatore, non possono essere gli altri, i tifosi non accetterebbero la scelta fatta da Furlani e anche se vogliamo da Moncada. Vogliono che sia Ibra a metterci la faccia come la faccia ce l'aveva messa Paolo Maldini, a volte sbagliando, scegliendo Giampaolo, poi correndo ai ripari, chiamando Pioli, poi magari volendo anche cambiare l'allenatore, ma Ibra deve metterci la faccia, altrimenti il ruolo dello svedese che è stato un grande campione risulta essere insignificante, risulta essere quello che lui non ha mai voluto essere, cioè un ruolo di facciata, una bandiera da sventolare, arrivo a dire per tagliare i nastri in Arabia o nelle inaugurazioni che verranno fatte in futuro, ma senza entrare nel processo decisionale. E allora Cardinale, che ha fatto tanti annunci, che ha detto di affidarsi completamente a Zlatan Ibrahimović dal punto di vista tecnico, deve dimostrare nei fatti di voler questo, deve dimostrare nei fatti di avere la volontà di riportare il Milan alla vittoria. E francamente una squadra che ha già pochi leader, che perderà due leader importanti come Kier e come Giroud, dal mio punto di vista non può permettersi di affidare il ruolo di allenatore a un mister inesperto, a un mister che non conosce il calcio italiano. Quest'anno c'erano due nomi sulla piazza che potevano andare bene per motivi diversi, uno sembra essere ancora disponibile ed è Antonio Conte, ma soprattutto per motivi caratteriali al Milan dicono che non può essere la persona giusta. L'altro era Tiago Motta, perché? Perché ha dimostrato di essere un profilo interessante, di avere il physique du rôle del grande allenatore, di voler vincere. Lui sì che anche partendo con calma e con un progetto più giovane ti darebbe la garanzia di voler tornare alla vittoria seguendo una strada, ma la Juve si è mossa prima e tu mai come quest'anno Milan avevi capito che questo sarebbe stato l'ultimo anno di Stefano Pioli e allora ti dovevi muovere in anticipo perché Tiago Motta era a disposizione. L'unica speranza è che alla fine di questa stagione, cambiata la pagina, voltata la pagina di questa stagione, prenda la parola a Ibrahimovic e dica quali sono i programmi futuri del Milan, nella speranza che venga scelto un allenatore ambizioso in grado di far tornare alla vittoria i rossoneri.